Ci troviamo nel quartiere di Santa Croce. Proprio ieri, in occasione della visita del Premier Mario Draghi, il coordinamento Via Roma-Santa Croce ha voluto ribadire la situazione che c'è a 12 anni dal terremoto ancora in questo quartiere. Alle nostre spalle vedete quello che è diventato l'area che prima ospitava dei palazzi, il famoso civico di Via Roma e anche un altro, il condominio a fianco. Qui praticamente vedete la situazione di assoluto abbandono e degrado, erano iniziati addirittura gli scavi, poi come si ricorderà tutto è stato bloccato. La zona da un lato è abbandonata perché vedete la parte della porta e della chiesa che ancora va riqualificata, vengono abbandonati qui anche dei pneumatici. E invece poi da contraltare, come possiamo vedere nelle immagini del nostro operatore Donatello Ricci, fa da contraltare appunto come dicevamo l'altra parte in cui c'è una palazzina che è tornata abitabile ed un condominio che invece si sta ancora ristrutturando, questi che erano i due palazzi che sono stati appunto stralciati dal progetto del comune e quindi ricostruiti. I residenti continuano a lamentare questa mancanza, dicono che non vengono ricevuti dal comune nonostante abbiano presentato un progetto. Insomma, dopo 12 anni dal sisma questa è la situazione paradossale che alcuni aquilani ancora devono vivere. Il caso emblematico è quello del civico 207 di Via Roma, che tutti conoscono come Porta Barete, un condominio salito purtroppo per i residenti agli onori delle cronache perché la ricostruzione avviata e autorizzata ed erano stati fatti anche gli scavi, ricordo una residente, è stata poi bloccata dal comune che l'ha inserito nel piano di recupero che però, secondo i residenti stessi, è privo di tempistiche e atti di ricostruzione veri e propri. Un piano che, secondo i condomini, prevede di eliminare le loro abitazioni per fare altro non specificato. Inutile dire le condizioni del posto. Tutto ormai è una radura nell'abbandono e sostengono ancora i residenti. Il comune e il sindaco non rispondono alle numerose richieste di appuntamento. La questione risale al 2017. Anche prima, alcuni ritrovamenti nel quartiere di Santa Croce rivoluzionarono i programmi dell'amministrazione. Si disse allora, tramite l'assessore di Stefano, che sarebbero stati ricostruiti solo tre dei cinque palazzi, ricollocando il civico 207 più giù. Poi tanti cambiamenti, storie e la realtà di oggi. Chi è rimasto di recente ha presentato anche un progetto per la parte non vincolata, spiega una residente. Non capiamo prosegue perché il comune si ostina a respingere le nostre richieste. Le persone per loro non esistono. Si sfoga una signora. Alcune persone in tutti questi anni hanno scelto l'abitazione equivalente. Due palazzine sono state invece stracciate da progetto. Una è ricostruita e l'altra è quasi ultimata. Accanto al civico 207 di Via Roma c'è anche il caso del civico 33 di Santa Croce, edificio abbattuto assieme ad altri e del quale non si sa ancora nulla. Se ne stava occupando l'assessore Vittorio Fabrizi. Poi lui è andato via e anche su questa storia è calato il silenzio più assoluto.